Presso il giardino botanico di Sant'Ufemia Maiella, nell'ambito del percorso di rivalidazione del Maiella Unesco Geopark, si è tenuto un incontro con i valutatori Unesco, provenienti da Spagna e Croazia. Come ormai noto, il Parco Nazionale della Maiella è dal 2021 anche Geoparco Unesco e il riconoscimento di tale titolo implica una rivalidazione ogni quattro anni e rappresenta un risultato di grande rilevanza. Questo riconoscimento è importante non solo per il valore diretto che viene dato al territorio nel poter incrementare il potenziale attrattivo, ma anche per quella funzione di stimolo che viene data alla pubblica amministrazione a investire ancora di più nella valorizzazione delle ricchezze geologiche di cui il nostro territorio si può freggiare. Ecco quindi come con il riconoscimento del Geoparco, da parte dell'Unesco del Geoparco, va a consolidarsi un intervento e quindi viene ancor di più promosso un intervento che ha la capacità di unire la fantasia, la tradizione, ma allo stesso tempo l'ambiente naturale per il contesto dove è stata realizzata e ancor di più quella che sono poi le ricchezze geologiche dando valore alla pietra della Maiella. La rivalidazione del Maiella Unesco Geoparco non solo conferma l'eccezionale valore geologico, culturale e paesegistico del nostro territorio, ma rappresenta anche un'opportunità unica per rafforzare l'impegno verso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, in sinergia con tutti gli stakeholders del territorio. Il Comune di Pacento è uno dei comuni che nell'ambito del parco ha un'estensione territoriale del proprio territorio del quasi dell'80%, quindi voglio dire un territorio importante. Il parco è una vetrina per tutti i comuni montani, ci auspichiamo con questo riconoscimento, qualora sarà confermato, e credo che sia confermato, come Geoparco sarà, implementerà ulteriormente queste iniziative, ovviamente soprattutto a livello nazionale, ma soprattutto internazionale. Il riconoscimento Unesco è assicurante un riconoscimento fondamentale per noi che facciamo turismo. Promuovere la regione Abruzzo vuol dire non solo promuovere la costa, ma promuovere anche le aree interne, che hanno ampi margini di miglioramento in termini numerici, anche se già negli ultimi anni, nel post pandemia, la voglia del turista di fare la sua vacanza esperienziale ha permesso che i numeri nell'area interna fossero in grandissima crescita. E per questo è fondamentale appunto il riconoscimento Unesco nel Geoparco della Maiella.